Buon pomeriggio amici youtube, come state? Io tutto bene. Vi parlo della partita delle partite di ieri sera. Lecce vince 2-1 contro la Lazio, la Juve che perde col Milan 4-2, vincerà un 2-0 con il gol di Rabiot e Ronaldo, ma alla fine, dopo il rigore di Brimovic e il pareggio di Chessy, la Juve si è spenta. Poi ha fatto il terzo gol Leao, è entrato Dara Scosta, è entrato Ramsey, è entrato Alexandro. Alexandro ha passato a Trevic per il 4-2, ha fatto l'assist. Io dico se la Juve adesso stiamo ancora a più 7, ma in casa contro la Dallanda è tosta perché la Dallanda è forte, e voglio tentare di batterci con onore. Anche se simpatizzo per la Dallanda, ma devo di fare per forza Juve, non posso di fare per tutte e due. Se pareggio non mi starebbe bene. Per quanto riguarda il mare, ci siamo stati ieri a Marina di Montemarciano, ci ritorniamo questo venerdì, e saluto Anna Rita che è la barista del chiosco del bar di Marina di Montemarciano, mi prendo un caffè e un ghiacciolo con 2 euro, mi ci scappa. Io do il voto di Cerni 4, perché non ho fatto nessuna barata sui 4 roll. Lugani lo stesso 4, Danilo 4, anzi Quadrado 4, Bonucci 4, poi chi c'era? Alexandro gli dà un 3 per il passaggio a Levic, poi c'è nel campo Pjanic 4 perché se camminava in mezzo al campo, Matuidi 4 perché non ha fatto niente, Ben Nandeschi inesistente, pure lui 4, Ronaldo gli do un 7 per aver fatto un gol, Rabiot gli do un 7 perché ha fatto un gol, Iguain gli do 5 perché non si è impegnato, Lucas Costa gli do un 5 e mezzo barra 6, qualcosa ha fatto? E allora è così ragazzi. Allora, il vostro Manolo vi saluta, attivate la campanella per non perdervi nessun video, iscrivetevi al mio canale Manolo Malloni. Ciao a tutti, ciao. 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 Grazie a tutti.